Il karma solitamente è categorizzato in quattro parti. Una è il prarabda karma, un'altra è il sancita karma. Quindi, prarabda è il karma assegnato per una vita. Questo prarabda determinerà la durata della tua vita. Se dissolvo il tuo prarabda oggi, potresti morire domani mattina. Potresti essere perfettamente sano, ma morirai domani mattina perché il tuo software è andato. Non c'è questa cosa per questo corpo. Improvvisamente potresti diventare immobile. Uno stato di assoluta bellezza per qualche tempo è puff. Quindi, non toccheremo mai il prarabda. Stiamo toccando il sancita. C'è un deposito di karma che non entra affatto in gioco in questa vita. Non entra mai in gioco in questa vita. Non si tratta di questo, ma ti dà sostanza. Quindi, se dissolviamo il sancita, è un deposito grande. Non è un deposito semplice. È un deposito molto complesso. Se questo inizia a dissolversi, allora trovi che nulla è cambiato nella tua vita. Ma è come una specie di trasparenza. La natura opaca della tua esistenza è ridotta. Ma nessuna trasformazione in te. Ogni cosa è uguale. Sei semplicemente la stessa persona. Ti chiedi che diavolo sta accadendo. Questo è davvero processo spirituale? Questo è tutto un sogno? Sei ancora lo stesso. Hai gli stessi problemi. Hai ogni cosa uguale. Ma c'è una sensazione di traslucidità nel corpo. Sembra un po' come se il corpo avesse un po' di buchi. Inizia a sentirti come un colino, non una cosa solida. Questo potrebbe richiedere un po' di tempo, perché è un grande deposito. Ti racconto questo perché ogni volta che fai sadhana spirituale, ti aspetti un risultato. Molti di voi cercano di creare un risultato. Non cercare mai di creare un risultato. Se cerchi di creare un risultato, è uno fittizio e non durerà. Vedi, qualcuno ti dice «Sia amorevole». Per tre giorni agisci amorevolmente e tutte le tue frustrazioni si accumulano. Tutti si sentono in imbarazzo con il tuo amore e le tue frustrazioni si accumulano e un giorno scoppierai come un mortaretto. Non è successo questo? Dopo un periodo molto amorevole. Non è successo questo? Perché stai cercando di essere qualcosa senza cambiare le basi di chi sei. Il 98% della tua mente è inconscio. Questo è sancito. Non entra mai in gioco, ma sempre lì, influenzando ogni cosa. Quindi non stiamo cercando una trasformazione rapida. Domani esci con il cuore tenero o qualcosa del genere. Non mi interessa. È solo che la sostanza interiore viene lentamente portata via. Per la cosa esterna stai al gioco. Qual è il problema? Hai visto a volte le termiti hanno mangiato dall'interno. Solo la verniciatura rimane. Vai a toccarlo? Quindi l'intenzione è di renderti così. Solo uno strato di verniciatura è rimasto. L'interno, tutto andato. A volte, quando la fine sta arrivando, se tocchi e guardi, niente sostanza dentro. Va bene? Allarea. Allarea. Grazie a tutti.